Appena partiti da Milano, stiamo andando a Parigi per poi andare in Osaka Volo per ora tranquillo e vediamo le prime impressioni di chi vola per la prima volta Per ora tutto bene, è una figata Fuori? Fuori, guarda Ci sentiamo a Parigi Buongiorno, allora, aeroporto di Parigi Stiamo aspettando il volo per Osaka E come da programma abbiamo comprato il macarons Cioè a Parigi devi comprare il macarons E una bibita strana che mi ricorda le macchinette giapponese L'abbiamo comprata Ma vediamo come sono i macarons Un assaggio live del macaron Rispetto a quelli che troviamo in Italia Mmm, caffè È molto morbido Molto buono, buono Ok, se faceva scritto era caffè era lo stesso buono per lei Perché il caffè Amo il caffè Ricordiamo che il caffè è il suo amico Adesso vediamo il video assaggio Vado col verde perché mi ispira il verde Molto morbido Pistacchio Buono Allora, il primo video assaggi è andato bene Ci vediamo sull'aereo Guardate la pappa Giapponesi versione Tortini Pane Una sostanza non ben definita È come una tortina Una cheesecake E vediamo Cheesecake E vediamo E qua Come è successo? Panino Io scelgo Io scelgo Scelgo Quag Non Mi Giapponesi Pant AfD Grazie a tutti. Grazie a tutti.